Mi sto vergognando un poco mi di scusare Però c'è anche a me C'è un pochettino Cotta ci sono Allora come mi sono trovato in questa bruttissima situazione In breve conosciamo tutti Robino Che è la doppiatrice di Eevee nella mia serie di Minecraft Lo uso solo in caso di emergenza Insomma l'ho chiamata per fare una partita Ma lei è l'ignora del fatto che le sto per fare un grandissimo scherzo Ovvero le sto per rivelare i miei sentimenti E in modo sostanza quello che è successo è davvero assurdo E vi invito a tutti quanti di andarvi a seguire per intero Veramente il video perché le farò delle domande Scomodissima in partita E live iniziano domani domenica 24 Nel mio canale ovviamente di Twitch Che trovate qua sotto in descrizione E ogni sub me lo scriverò sul braccio Non sto scherzando Ogni persona che si subirà nel mio canale Twitch Me lo scriverò sul braccio ragazzi O se non ne basta sul braccio Me lo scriverò anche su tutto il corpo Prendete questa challenge come un antipasto di tutto quello che andrò a fare su Twitch E nulla si vola E vi aspetto Eeeh Vieni per questa parte Vieni 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 Dov'è 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 E' lì lì Guarda sta guardando il lago Là Ah lo vai dove lo vai Dov'è dov'è vieni a questa parte Vieni l'elicottero Vieni l'elicottero Ma non sono player È vero Non sono player No 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 Vieni l'elicottero Vieni l'elicottero Sono bot Sono bot Vieni prendilo Ci sono i bot Perché Sali saliamo saliamo Oh mio dio la prima volta che lo sto utilizzando Oddio si vede Aspetta Come come si sale Come si sale Non lo so aiuto Aspetta Muavi giù Accelerazione Vai c'è No no ho sbagliato No No Aspetta 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 Come si sale Non lo so Con la W Con lo spazio Con lo spazio Ah ok Aspetta Aspetta Moriamo 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 Oddio Cosa sta succedendo Ti giuro Non lo so Non so Di notarlo Come si sale Vabbè Continua ad andare dritto Tu Muovi su Ah Col sinistro Ok Maus Oh Menomale Madonna Aiuto Ma qua Mamma mia Ok ci sei Sì ci sono Ma che fortuna Comunque abbiamo avuto A prendere l'elicottero Sì ma più che altro Non sapevo che quello fosse un bot Eh sì sì No tu sei un bot Oddio No 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 Aspetta 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 Io non ci riesco Non ci provo nemmeno Fai tu queste cose Io sto dietro Ok no no Mi stanno sparando Mi stanno sparando Arrivo Arrivo No 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 Aiuto Dov'è Dov'è Eh sono lì di fronte Ok arrivo Guarda lì No E io direi di andarci Dall'altra parte Non lo so perché Eh dai 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 vieni qua Vieni qua vieni qua Ti proteggo io Vieni qua da questa parte Andiamo verso la safe Almeno Ah comunque Hanno Hanno migliorato il ranking qua Cioè nel senso Adesso sto giocando anche tipo Con le persone scarse Non solo quelle con il tuo stesso rank Eh ok Meno male Cioè oddio Comunque Posso chiederti una cosa Dimmi Ma Io ti sto antipatico o simpatico Ma perché Eh Stipatico ovviamente No no Era giusto per sapere Oh cavolo Attento Arriva bene io Stavo di me Stavo Io sono inutilissima Non posso fare niente Col pompo Ok Ripeto lì in fondo Ripeto lì in fondo Andiamo 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 No Te l'ho chiesto giusto per O non lo so Perché A volte tipo Quando giochiamo Tipo Vedo che sei molto presa Tipo ogni volta Quando giochiamo insieme Ti hai proprio Ti impegni Perché Boh È il mio carattere Sono una persona Molto Competitiva Cioè Nostante Perché No però c'è Subito Cioè appena ti dico di giocare Tu vieni subito Magari ti puoi stare registrando Ok Tipo il video Lo fai durare di meno Ma perché fai così Perché Mi fa piacere Mio a giocare Cioè alla fine Il video Lo posso fare anche dopo No Ah ok Ok Capito Capito Vai in effetti Ok C'è una cassa qui sopra Comunque Ma perché mi chiedi questo No no nulla Nulla era giusto per sapere Ok Vabbè comunque Che facciamo Dovrebbe essere tipo Qui dietro Ah ah No non è vero Cos'è stato Non lo so Lì in fondo Mi 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 resta parte Mi resta parte Vieni Ti sono piacutata Ah no tu sai che ci sono Dei nasconditi Tipo questi qua Che puoi nasconderti Dentro le pattumiere C'è sonetto No vabbè Eh sì Quindi bisogna stare attenti Perciò sento una cassa Vabbè le scatole me le tolgo Cos'è sta cosa Mina di prossimità Ok questa roba è anche nuova per me Mina di prossimità Che fa? Eh non so Credo che tipo esploda In maniera molto vicina Fredo buono Non è la più politica idea Onestamente C'è una canna da pesca Sì puoi pescare i pesci Lascia star Che figo Sì Aspetta Comunque Essendo che siamo Della stessa città Ma Tipo sta Sta tipo succedendo Tipo no la quarantena No che Sta finendo Quando è che ci dobbiamo vedere? Ma Quando vuoi C'è nel senso Non ho niente da fare Se mi inviti vengo Ma tipo Ma che ne so Ti mandiamo in centro? Eh sì Al centro Centro storico Sì sì Va bene Va bene Ma quando ci metti tu per arrivare? Eh Dieci minuti in treno Praticamente Allora Ma quindi Cioè Arrivi in stazione Sì Stazione Sì Ah ok Quindi praticamente Se dobbiamo vederci Che ne so Tipo a politrama Devi farti tutto la Ah Basta Allora Cosa Paracadute Cosa fa? Cioè sai che cosa fa il paracadute? No È questo? Cioè credo che tipo almeno serva per non farsi male Cosa per potenziare le armi? Davvero? Ah sì Però ti servono tipo tot materiali per switchare da un materiale all'altro Capito? Sì Non puoi sbagliare Oh cavolo Per sbaglio ho messo la roba Però io potrei aggiornarmelo effettivamente qua Mi servirebbe del ferro Del ferro? No ne ho zero Forse dovresti andare a prendere qualche macchina Eh sì Mamma Ce ne dovevo andare la Oh cavolo Sì 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 Dovevo andare via Ok Siamo in 15 Non abbiamo ucciso nessuno Però siamo in 15 Vabbè dai La tecnica del camping Sì esatto Vieni 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 Questa parte Eh no perché ovviamente quando giochi con una persona Che magari effettivamente non lo so O ci stai bene È figo Oh Ah ecco cosa fa Sì sì hai visto Che senso ha? Come che senso ha? Ti permetti di andare più veloce Che senso ha? Ok Vieni qua vieni qua vieni qua Vieni qua vieni Come? Vieni 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 qua Vieni qua Vieni Non mi ricordo come si pingava Vabbè sticavo lì Ah ok Grazie Prego prego Oddio però Siamo in 13 Non dico nulla perché non vuoi buttarla però Esatto ora siamo in 10 Porca miseria Comunque volevo sapere una cosa ma Se dovessimo uscire ok Usciamo necessariamente con gli amici no? Beh a me farebbe comodo venire con degli amici Perché? No no giusto Era giusto per sapere Cioè nel senso Anche perché Boh Mi viene meglio Ci sembra strano vero? Si sembra strano È un po' alto Eh cavolo Più che altro Ok quindi cosa dobbiamo fare? Aspetta Io mi sto prendendo il ferro No vabbè Eh Aspetta non andare così tanto lontana però da sola No 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 Stavo pensando di scendere Ho detto ho trovato una cesta tipo quelle potenti Non lo so credo di sia Una cesta potente? Si si una cesta potente C'è una barriera Oh no no aspetta sto provando in lo scintino Aspetta vai veloce Ok arrivo No Vai corri Cavolo Corri 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 Mamma mia Mamma mia Arrivo arrivo Ok ci sono ci sono Boh penso che sia per adesso il posto più strategico perché siamo in alto Ah ah Vabbè non è più facile No non lo so se fare un riparo conviene Ah guarda guarda vedo una persona lì in fondo ma non abbiamo armi a distanza vero? No Oh Scegliamo armi normali Vai vai scendiamo scendiamo Aiuto In questa parte Madonna se la vinciamo Oh ma siamo siamo sono in cinque Boh o gli facciamo uccidere fra di loro e poi alla fine ciao ciao Oh boh Eh sarebbe bellissimo Perché penso che sia la cosa? Cos'è? Mina di prossimità Ok Secondo me è più utile questa pompa di quello blu Ok Sento una chest Ma non stiamo trovando completamente nemici comunque Ma ma neanche armi Oh le davanti Di davanti Diamanti Ah davanti Ho sedito diamanti Diamanti cosa? È dentro la casa Arrivo dove? Ok sì 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 Gli ho tolto 50 comunque Guarda guarda No guarda Mannaggia lui Aspetta non è che sta dietro di noi? No nessuno Ok Dov'è lui? È lì in fondo Aspetta Comunque staranno nel castello Andiamo 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 Sì sono nel castello Secondo me Ah che no C'è la barriera Allora aspetta C'è una ma No che Non si può prendere Ce l'ho sperato Vieni 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 E tenta attenta perché potrebbero targettarti malissimo Sono lì sopra Eh sono là sopra Sono là sopra Sì sì ma staranno combattendo fra di loro credo almeno spero Almeno spero Che sennò ci cecchino No L'ho visto sbucare Sì anch'io Stanno stanno combattendo fra di loro Ok Andiamo 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 Attenta proteggiti Proteggiti Non so costruire Aiuta Ok come è così Perfetto Attento 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 le bombe Dov'è Non lo so E' lì Lì davanti a me Dove dove Fuori Qua fuori Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Dove sono io Aia Dov'è Aspetta mi devo curare Aspetta adesso faccio una provata Ok Sono abbastanza morta Attento Attento Vieni qua Vieni qua Vieni qua Aspetta Vieni 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 Eh no Pacco di qua No 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 Eh Fatti il muro adesso Ok ok Vieni qua Vieni qua Vieni qua Per il cavolo sono finiti Scusami Oh oh Ma sono lì sopra? No Ah si sono lì sopra Sono lì sopra Che ho visto Non ho più colpi a distanza Sono qua sopra Scendi 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 Sta di sopra comunque Sta sopra Sta sopra Vuole fare la roba tipo che Se ne sta tipo di sopra sempre Attento Vabbè? Eh non lo so Boh io andrei a Sì sì andiamo 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 Non ho più colpi Non ho più colpi Come non ho più colpi No Posso fare così Guarda Eh lì Eh lo vedo Aspetta Aspetta stai ferma Stai ferma Eh Non hai più colpi Cioè praticamente non Porca puttana Questo è un problema Eh ho solo quelli del pompo Attento Mannaggia a me Vieni qua Vieni qua Arrivo Sì ma Ci vengono a prendere Ma sono Ah ma è uno Ah è uno Ah il lami Sta arrivando Vai Intanto Spostati Scusami Scusami Dietro Boom Mamma mia Abbiamo vinto Abbiamo vinto Mamma mia Una partita che fai dopo Tantissimi Oh mio dio Vabbè io non l'ho fatto niente Ho fatto tutto Oh madonna Oddio Madonna Madonna Ok Mamma mia Che sedere Non è vero Che sedere Non è vero Non è vero Allora Ravi Io ti devo dire una cosa Ok Allora quando Quando tu gioco Quando ti inizi una pretina Perché giochi bene Quando giochi bene Perché sei preso bene Tu mi fai prendere tanto bene Quando giochiamo In che senso Ogni volta mi fai prendere un sacco bene Quando giochiamo Ti giuro Non lo so È come se avessi un altro feeling Con te che con altri non ho Che feeling stai parlando Sbrizer Allora 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 È vero È vero Che un po' Ok Giusto un po' Inizialmente Avevo una cotta per te Ok Una cotta per me Sì Inizialmente Nel senso Quando tipo ci siamo No no Quando ci siamo conosciti Dopo un po' O l'ho avuta E adesso sta smettendo un po' Sta smettendo Sta smettendo E con queste cose vorresti dirmi Scusa No niente Che magari Ancora quella cotta ce l'ho E per questo gioco bene Ah sbri Mi fa piacere perché Effettivamente Nel senso Cosa? Mi sto vergognando un poco Mi devi scusare Però C'è anche a me C'è un pochettino Cotta ci sono Sbri Sbrizer Eh Stai scherzando No perché Cioè nel senso Lo so che è strano Però è così Cioè Dai capito Mi sto vergognando In questo preciso momento Volevo davvero Sotterrarmi nella terra Perché se l'avessi rivelato Davvero Che era tutto quanto Uno scherzo Lei avrei potuto Spezzare il cuore Ma affortunatamente Sbrizeri Perché No no perché è cosa No cioè È strana Cioè non è Ma veramente Sto scherzando Perché so che stai registrando Me l'ha detto Zenni E volevi farmi questo scherzo Ah mamma mia Meno male Oh mio dio Oh mio dio Quindi sei registrato Veramente Ok perfetto Sì stavo registrando Veramente Quindi stavi scherzando È certo Oh mio dio Meno male Ma la cosa bella Che hai vinto Hai vinto in video Sì sì La cosa è figa Ok Non me l'aspettavo Neanche io Perché ho iniziato A reccare Cioè io gli ho detto In uno di questi giorni Chiamerò Robby Ok E in metagame Inizierò A farle Delle domande scomode Per vedere se tipo Ci sta È registro Capito Nel senso che proprio Volevo farti sto scherzo qua Ma sai L'ho capito da quando Mi hai detto Ma quindi Devi venire con gli amici Nel senso Eh sì appunto Capito Nel senso L'avevo capito Quindi stai scherzando Ok Non è vero Sto scherzando Beh perché Ok Meno male Meno male Ok perché Sì è vero Mi è contro trollato Vabbè ragazzi Mi hai detto Il video mi dice qua È uscito benissimo Abbiamo vinto E lei mi ha contro trollato A parte che io l'ho trollata Perché miseria Oh mio dio Perfetto ragazzi Io spero che il video sia piaciuto E ci vediamo Nel prossimo Nuovissimo video Saluto a Robby Ciao Vabbè rossami scherzando Stavo scherzando Ok va bene Ok va bene Va bene Ok Noi